Radio BCS, siamo come stanno i nostri gem e dom a casa. Ciao Stefano! A voi insomma avete lavorato, purtroppo siamo arrivati tardi, però è comunque un omaggio, un saluto a questo signore e alla figlia naturalmente. Assolutamente, sì. Abbiamo toccato con mano appunto, vi dicevo, il dramma nel dramma, cioè le persone che purtroppo non riescono né a essere vicini nella sofferenza ai propri cari, né poi a dare il giusto commiato con un rito civile o religioso che sia. Abbiamo visto che tanti musicisti, tra i quali anche alcuni nostri docenti, con i quali in questi giorni ci siamo salutati, anche fanno un tributo a queste persone registrandosi, magari anche il nostro carissimo amico violinista ha registrato l'Ave Maria di Gounod Dandola come giusto tributo a questa persona, cercando di celebra Dandola. Almeno la musica, sappiamo, ci accompagna nei momenti belli, nei momenti meno belli, però l'importante è che ci sia sempre, perché è una forma di espressione d'arte e sicuramente arriva dove alcune volte le stesse parole non arrivano. C'è molto del vero e purtroppo effettivamente è una delle tristezze di questi giorni, è proprio non potere neppure salutare come si deve i nostri cari. Anche questa è una delle cose che ci toccano di più e quindi effettivamente sono delle parole molto giuste. L'ascoltiamo questa canzone che è Vecchio Frac di Domenico Modugno, insieme ai nostri Gemma e Tom. Noi sempre con la nostra positività abbiamo cercato comunque di dare un messaggio e soprattutto anche con i nostri ospiti, tra cui nel video si vede ritratto, insomma, di Domenico Modugno, realizzato, tra l'altro io vi consiglio di vedere il video, perché c'è un ritratto realizzato in maniera incredibile, infatti io ero una delle curiosità che ti volevo chiedere, come nasce quest'opera meravigliosa? Allora, Stefano Padoan, Stex, che ora abita a Londra, è un piccolo genietto, non solo musicista, ma anche per quanto riguarda le artigrafiche, e ha congeniato questo dispositivo che, dandogli degli input, riesce a realizzare sotto forma di tratti della penna continui, un disegno realizzato ad hoc su misura. E noi abbiamo chiesto la collaborazione per poi ritrarci quello che si vedrà poi nel video. Esatto, allora, se adesso ascoltate la canzone, ma andate sul Facebook di Radio BCS, tra poco pubblicheremo anche il video, credetemi che è un'emozione nell'emozione, vedere come sotto i nostri occhi si realizza questo disegno proprio del grande Domenico Modugno. Credetemi, è veramente una cosa emozionante. Tra poco, se andate appunto online, lo potete vedere. Stefano, sentiamo la canzone e... Grazie a tutti. La dedica? La dedica di Gilberta, una cara amica, ai nipoti, ecco questa è la dedica speciale, ovviamente nel ricordo del papà. Del papà. Ciao Stefano, grazie. Ciao.